Bapà! Bapà! Che cosa producete e avete portato delle novità presso questo SIGEP? Allora, noi siamo un'azienda di elettronica industriale applicata a diversi settori. Siamo qui contenti nel settore della panificazione e realizziamo prodotti finiti che sono dosatori, miscelatori d'acqua e refrigeratori d'acqua. E poi completiamo la gamma con dei controllori di processo tipicamente per forni, impassatrici oppure celle. E sì, anche quest'anno siamo arrivati con delle novità che riguardano in particolare i controllori. Abbiamo presentato la serie sia capacitiva che con il nuovo touchscreen. La possiamo vedere qua, è un display colorato, quindi insomma friendly, che si abbina un po' alla tecnologia del momento. Ti spiega degli smartphone, quindi la connettività, la possibilità di gestire da remoto, di personalizzare la parte grafica. Tutti di tanti. Esatto, esatto. Quali sono i settori che voi servite? Per quanto riguarda il food and beverage presumo tutti, ma me lo dica lei. Panificazione in particolare. In particolare panificazione. Prossime fiere nel 2015 previste? Andiamo a Liba in Germania, a Monaco. Ok. Ok.